si passa per impostare l'azione offensiva Vucinic tra i due versari comina sullo stretto Vucinic in aereo di rigore Vucinic attaccato da giù calcio di rigore fuori danni di Vucinic calcio di rigore Amorito Zani è pronto Vidal fischi a Giannocchero la ricorsa il cileno parte Vidal Rete più alto il sequentraggio l'ottavo minuto siamo a 30 metri dalla porta di Marchetti parte Viro la mette in mezzo la direzione di Marchetti bomba ancora Zanmaga sta crescendo palla a limite il tocco di Vucinic grande palla Marchisio anticipato da Vidal che si è in redoppio il pallone era diretto a Marchisio ma si è inserito Vidal anticipato Marchetti e ha seguito 3-2-0 Vucinic scattato Marchisio apertura per il centrocampista che punta a sé di Marchisio in aereo di rigore porta il tiro deviato palla in calcio all'angolo forse ci prova la ricorsa mi sembra un po' troppo corta 36 metri lui è uno che quando tira da lontano può far male ci prova Candrema gran botta non c'è l'educazione Pufonna battuto corto all'angolo la classe di Gonzales sia lì da siedi e c'era lì Pufonna parte Pirlo Marchetti respinta corta e si divola clamorosamente Marchisio la palla del 3-0 accelera che Andreva li fa spazio Ederson insiste che Andreva largo Ederson palla per il da brasiliano Ederson va al cross verso Kozak buon momento di Ederson si propone ancora Gonzales in aria scattano Kloze e Kozak palla sinistra il cross di Cricco di Viato il pallone diventa buono per Kloze cerca un compagno arriva o no si palla con Kloze Kloze in aria di rigore Kloze Kloze balla di poco fuori Kloze